Dopo le due sorelle a Domenica in, ecco madre e figlia a voi scommettere. Se il primo esperimento non esattamente è riuscito, Benedetta è stata via via relegata in un angolo del contenitore domenicale, della serie Vai in cucina che ti si vede meno meno, Mediaset spera che le cose funzionino meglio con Michelle Unziker e la figlia Aurora Ramazzotti che si troveranno a convivere non in un'abitazione, come sarebbe naturale vista la parentela, ma negli studi del nuovo programma di Canale 5. La TV che guarda alla nostalgia, ultimo esempio la corrida di Carlo Conti sulle orme di Corrado, perci vuoi scommettere. La nuova versione dello scommettiamo che è? Che a fine anni 90 fu un successo con Fabrizio Frizzi e Millie Carlucci. Un format che Michelle Unziker conosce benissimo visto che ha gi condotto qualche anno fa la versione originale tedesca, Wetten, Das. Figlia Aurora a fiancher madre Michelle nel ruolo 501 inviata del programma in cui alcuni ospiti VIP faranno delle scommesse sulla riuscita delle imprese di diversi concorrenti sottoposti a prove di cultura e habilit. Partenza luned 7 maggio con un ospite della casa, Maria De Filippi, anche se la curiosi tutta nel capire se ci sarà anche una riunione di famiglia in TV con padre Eros. Non la prima esperienza televisiva di Aurora Ramazzotti, la 21enne Aurora Sofie hagi condotto il daytime di X-Factor, anche se all'epoca fu molto criticata dalla piazza dei social che le diedero della raccomandata in quanto figlia di. Ora per lei una prova ancora più grande, in prima serata, su una rete generalista che punta a grandi ascolti. Dalla madre ha raccontato di aver preso l'autoironia mi ha aiutata più di una volta a fermi scivolare le cose addosso, dal padre la generosit buono come il pane, anche se io ho un po' di malizia in P. Lui davvero l'uomo che piammirò al mondo. Confessava che il suo desiderio nascosto era uno, cantare in concerto con il padre. L' ho sognato tante volte. Mi piacerebbe con amore contro, che nelle mie corde. Amo cantare, ma non so se potrei reggere un palco. E comunque dovrebbe volerlo lui per primo. Intanto la prova palco inizierà a farla con la madre. Intanto la prova palco inizierà a farla con la madre. Intanto la prova palco inizierà a farla con la madre.